avete presente il vostro amico che sta sempre seduto in fondo alla classe all'ultimo banco quello che la maestra dice è bravo ma non si applica vi presento leo e quel simpatico vecchietto che vi fa sempre ridere e quando lo guardate pensate alla sua età voglio essere proprio come lui vi presento il signor francesco ora ma non tutti sanno che in realtà lui è il papa sempre amici basta poco per essere amici